Nei giorni scorsi a Vallo della Lucania, presso la casa comunale, il sindaco Antonio Aloia ha incontrato il capitano della compagnia Carabinieri, dottoressa Narita D'Ambrosio, il comandante della stazione, il maresciallo Salvatore Sergi, e il capitano comandante della polizia locale di Vallo della Lucania, Antonio Musto, per fare il punto della situazione sulla sicurezza nella città di Vallo, prendendo spunto dagli ultimi gravi episodi di cronaca che hanno messo in allarme la popolazione. Dall'incontro è emersa la reciproca e ferma volontà di perseguire e reprimere con forza ogni comportamento contrario al diritto e che in qualche misura punti a destabilizzare il clima di tranquillità e di operosità che da sempre contraddistingue la vita pacifica della comunità di Vallo della Lucania. L'amministrazione comunale è in sinergia ed opera costantemente a stretto contatto con le forze dell'ordine. Queste le parole del sindaco. Ci si aspetta che anche i concittadini si facciano parte attiva, non sottovalutando distrattamente attività ed azioni che per caso ed occasione possono presentarsi davanti ai loro occhi, che potrebbero in qualche modo configurare ipotesi di commissione di un reato e non esitino a sporgere denuncia agli organi competenti. qualsiasi condotta sospetta deve essere comunicata immediatamente in modo da consentire a chi opera per dare sicurezza nella città di Vallo di agire tempestivamente. Sono state congiuntamente decise delle linee di azione ancora più incisive rispetto alla ordinaria operatività che serviranno a scongiurare il perpetrarsi di situazioni di pericolo. Naturalmente il contenuto delle attività programmate non può essere divulgato, ma già dopo questo incontro si è potuta verificare la presenza nei punti strategici della città di Vallo di posti di blocco presidiati dai carabinieri. Il sindaco provvederà inoltre ad inviare una specifica informativa relativa ai più recenti e gravissimi fatti che si sono verificati diretta al prefetto, al questore, al comando provinciale dei carabinieri e alla locale compagnia dei carabinieri, in cui si richiede di mettere in atto tutte le forme di tutela che la normativa vigente appresta per garantire la sicurezza di tutta la cittadinanza. Ringraziamo il capitano dei carabinieri, dottoressa Annarita D'Ambrosio, conclude il sindaco Tony Aloia, il maresciallo Salvatore Serge e tutti gli uomini della compagnia dei carabinieri di Vallo della Lucania e anche il comandante della polizia locale Antonio Musto con l'intero comando della polizia locale per l'opera costante offerta a protezione dei nostri concittadini.